ciao ragazzi ciao oggi io e alissa vi raccontiamo la giornata di ciccio bello sei pronta a svegliarlo? andiamo a vedere oh guarda come dorme sembra proprio un angioletto dispiace svegliarlo però è mattina è ora di alzarsi sì ma è un po' caldo non è che ha la febbre è vero è un po' caldo forse è il caso di farlo visitare da una dottoressa che fortuna tu sei una dottoressa sì allora prendiamolo oh poverino guarda lì sono venute tutte le guancette rosse no no ciccio no no adesso adesso ci pensiamo noi non ti preoccupare ora ti visito io eccoci qua oh bene cambiati pure veste professionale sì eccolo qua ok cambio completato alissa è diventata alissa dottoressa ed è pronta a visitare il nostro ciccio qui c'è tutto il necessario io posso farti da assistente se serve per il resto sai fare tutto vero? sì oh no ha ricominciato a piangere che bisogna fare ora ora noi dobbiamo misurare la febbre vediamo oh oh è rosso sì è rosso no piccolino è a posto allora proviamo con la pulitura ora proviamo le medicine oh va meglio con quello sì ho bevuto tutto ok oh però sta ancora male proviamo la medicina arancione sì questa la fa diminuire di tanto vediamo questa è l'arancia credo che gli piace sì questa mi sa che ha un buon sapore vediamo oh ancora quella rosa quella rosa dai vai questa la più potente perché la fragola vedi è super colorata ne ho ancora un po' sta diminuendo ecco fatto l'abbiamo curato adesso un po' di coccole ok a me sembra stare meglio vediamo se le cure di Alissa hanno funzionato sì è contento ok adesso possiamo riportarlo a casa a giocare sì andiamo vieni ciccio andiamo a casa eccoci qua tornati a casa eccoci qua la mattinata è passata sì e ora è pomeriggio ora è pomeriggio e ora che il nostro ciccio bello sta bene io direi di farlo giocare un po' vediamo un po' se riusciamo ad insegnargli a fare i primi passetti sì vai cambiamolo e proviamo ok ed eccolo qui sì ci siamo Alissa tienigli le manine così non cade dai ciccio ce la puoi fare sì il suo primo passetto ce l'ha fatta bravo ciccio oh che dolce via ha detto via ha detto via passa dai caccetto alla palla vieni ciccio dai bravo oh bravissimo bravissimo eccolo eccolo arrivato bravo vai lancia guarda guarda come ha imparato che bravo e poi per farlo calmare cioccetto bravo ho imparato sì poi gli possiamo anche far abbassare le manine e lo puoi far venire verso di te è arrivato hai imparato a camminare allora ciccio bello visto che sei stato bravissimo ti sei meritato un giochino sì andiamola a comprare vai andiamo eccoci qua pronti per lo shopping ecco ciccio come stai? comodo? ora ti facciamo un bel regalino ok andiamo eccoci qua al negozio vediamo un po' qualcosa di adatto alla sua età cosa vuoi? ok un bel sonaglino che poi è anche perfetto per la nanna magari lo fa rilassare un po' ok lascio qua i soldi grazie signora torniamo a casa ma ci siamo portate via il carrello del supermercato ed eccoci a casa dopo questa giornata così impegnativa sono sicura che ciccio bello è stanchissimo e non vede l'ora di dormire vero? sì dai mettilo a letto ok ehi no no ciccio basta giocare è ora di dormire allora dobbiamo mettergli anche le calzine dai ciccio buono eh fermo no mettigliele dai dai buono ciccio ciccio fermo fermo dai calci ciccio basta fare il monello è ora di dormire basta ormai gli abbiamo insegnato a muovere le gambe e lui le muove sempre ciccio guarda qui guarda qui dai alissa vai vai ce la puoi fare no ci riesco una è andata una è andata ecco 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 guarda sei calmato no no niente è ricominciato fermo fermo ciccio ciccio bello sei bello ma sei anche monello le calzine le abbiamo messe però non si vuole calmare aspetta ok mi sembra che vada meglio no ecco dai dai lei si sta calmando un ciuccetto eccolo dai 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 basta basta che ora devi dormire ok si è calmato ok bene bene finalmente può tornare a dormire guarda sta buono anche senza ciuccio adesso gli facciamo venire sonno ecco si è attormentato è sera la giornata è finita com'è andata alissa? bene ti sei divertita? sì ci siamo occupate di ciccio bello per tutta una giornata intera gli abbiamo fatto fare un sacco di cose e ci siamo divertite anche noi però sì ragazzi allora per oggi questo video finisce qui ma vi svegliamo un segreto il ciccio bello non era uno ma erano tre sì ciccio bello bua ciccio bello monello e ciccio bello gioca e cammina sì e tutti insieme ci hanno aiutato a far vivere la giornata di ciccio bello sì noi speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao